Femme no, tu sei la malafemme no Non si bussa con le mani, non va bene questa cosa qua Soprattutto è senza Nando che ci saluta e ci fa un grande in bocca al lupo Allora un applauso e un abbraccio a Nando Ormone Nando ti vogliamo bene Grazie produttore tra l'altro della nostra ospite che sale su questo palco E ci regalerà un po' di musica bella anche lei Mavi Gaiardi Ci siamo, buonasera a tutti e benvenuti Grazie Dov'è Barbara? Barbara vieni un attimo qui Ma che cosa devo fare io ora? Devo cantarti una canzone che a te piace Che cosa? È una canzone particolare Quella di Nando Ah Quindi tu vuoi sentire l'amore ci abbraccio Brava Quella lì Quella lì Ce l'abbiamo Ci abbraccio a tutti Ce l'abbiamo Certo che ce l'abbiamo Stasera è rimasendo che un liceo Applausi a tutti Quella lì Da un'altra figura, che sono sempre, ma non sono ancora Così non sono mai sto scendendo Mi sento forte ancora, oh mio Dio Se andare in te non muovere il male, io desiderio a chi sta morto Sto farmo sempre, oppure un po' magari E stanotte è così, tocchi assai ma fai in bassi E l'aria più grosso, volo non volo già Ci vado un po' di io, e noi ci passiamo ancora L'amore ci abbraccia, c'è della spinguta Sto notte è più vero, pure stelle sono sincera L'amore ci abbraccia, c'è della spinguta Che sono per sempre Così non sono ancora Così non sono ancora Così non è più vero, pure stelle sono sincera che sono ancora grazie ma che bella e che brava e che voce allora posso dire una cosa? tu ricevi complimenti da sempre io sono proprio contento che grazie anche a Nando che ti vuole molto bene ma d'altra parte come si fa a non volertene hai deciso di fare anche un po' di cammino da sola perché sei tanta roba mavi però io volevo chiamare Pezzuto Antonio che ci teneva è un tuo fan non lo vedo Antonio Pezzuto vieni a consegnare un abbraccio è anche uno dei nostri sponsor deve prendere il cadeau e se no che viene a fare guarda io sono emozionata perché veramente noi siamo tanto amici non sapevo vieni prima qui e poi dopo poi dopo glielo dai in segreto guarda che io sono molto molto contenta con quello che hai detto perché allora io lavoro con Nando lavoriamo con Nando da undici anni e questa cosa da quando ero più piccola c'è nell'aria e ora diciamo che i tempi sono maturi abbiamo cercato tra l'altro io ti conosco da tanti anni perché prima di Made in Sud tu ricordi che io facevo il primo programma di Nando prima di Made in Sud assolutamente sì che era con Maria Mazza assolutamente sì io ero autore insieme a Paolo e presentavo con Maria e quindi tu voi già cantavate già eravate su P50 sì a Comedy Central e adesso sentirti da sola è un tripudio di emozione io ti ringrazio Antonio eccola è tua bene lui mi ha cresciuto io ero così quindi tu sei vecchio significa questa cosa capito? non è vero dammi un bacio ringraziamo allora Antonio Pezzuto e Mavi per essere allora noi insieme abbracciati perché c'è Poggiante e gli altri fotografi oltre che i nostri cameraman che devono fare un po' di immagini per poi raccontarle l'anno prossimo alla diciottesima grazie Antonio e grazie a Mavi ce la vuoi ridare? no no e dai un bacio a Nando questo in camerino a fianco al disco d'oro che puoi avere va bene? si dice a Parigi Angela Boccatoio arrivederci grazie Mavi bacio su il microfono ecco grazie vai